Sì. Sicura che vuoi andare dal cinese? Sì. Domani che non è a scuola siamo lo stesso domani mattina. Non si è a scuola bene perché fa ferdo. Dai andiamo a casa. Stai io devo andare in centro, devo andare a fare l'orologo per Fabrizio e poi ce la devo portare. Vieni con me? No. Vieni con me. 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 Non fumo. Ti bagno tutto il telefono o ti bagno? Non si, non prende. Vieni con me. Vieni con me. Non ho guardato il telefono. Se ci guardavo. Bravo. Devo pensare che venia a iniziare. Scusa, vediamo se c'è la radiale. Scusa, non vediamo se c'è la radiale. Scusa, non vediamo se c'è la radiale. Mesmo non vediamo se, la qualità è la radiale viene la 100 euro. Camina, 10 minuti. sia radiale mi cammino vuoi camminare